Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 22 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Basta la salute. Quando c'è. Il DQ basta la salute si dice comunemente per consolarsi di una sconfitta o di una mancanza. Basterebbe avercela, però, ecco perché per voi salutisti ritrovarsi con Marte, responsabile degli stati infiammatori e Plutone, quello degli svarioni ormonali, abbracciati in sesta a casa e contrariati dalla Luna, non è un'esperienza felice. Doppiamente se pensate che questo settore dell'oroscopo non riguarda solo il benessere ma anche il lavoro, in azienda la tensione si taglia col coltello e le lotte sindacali a sostegno dei vostri diritti di categoria si moltiplicano contro le decisioni presi dall'alto. La soluzione ci sarebbe, proposta da Giove e da Urano, amici del vostro segno, cambiare ambiente e file, inviare il curriculum oltre confine e in più impegnarsi con corsi di aggiornamento, un master, un titolo che migliori la vostra professionalità, è il momento giusto per iscriversi, specie se si vuole frequentare all'estero. E il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. Non abbiate timore di affrontare la realtà così come si presenta a voi, Marte e Mercurio faranno di tutto per distrarvi e minare le vostre certezze. Il vostro cuore oggi è un porto di mare, fanno naufragi tutti i marinai del mondo. Siate più rilassati e fate bene ogni cosa, portate a termine ciò che avete intrapreso e non curatevi del giudizio degli altri. Vorrai comprarti di tutto di più. Prima di spendere, fatti un po' di conti. Dedica più tempo alla famigla. Sbarazzate di cose e vestiti inutili. Se frequentate un asciato siete in comunicazione virtuale con qualcuno oggi potreste ricevere qualche delusione. Qualche amicizia vi cancellerà dai suoi amici e resterete delusi e contrariati. Oggi le transizioni dei pianeti ti aiuteranno a cogliere tutto l'affetto che le persone a te care sanno darti. Nel tempo libero, si delinea per te una fase di benessere e di successo. L'amore non è bello se non litigarello, ma non esagerate. Siete troppo nervosi e chi ci rimette potreste essere voi. Dovrete fare i conti con il carattere di alcune persone che vi stanno intorno, provate a rendervele più amiche e ad accogliere le loro idee e consigli. Una nota stonata in mattina potrebbe tradursi in una piacevole sorpresa in serata, date credito solo a chi merita la vostra fiducia e di cui siete certi della sincerità. Quadro dei moti planetari di oggi lievemente disturbato dalla posizione di Venere, ancora in angolo dissonante dal segno nemico, amatissimo dei pesci. La fase astrale attuale si svolge in un punto dello zodiaco che vi pone qualche inciampo, un po' a tutti i livelli, ma la vostra capacità di superare le sfide e di trovare soluzioni geniali ha bisogno di ben altri avversari. Riuscite, infatti con intima soddisfazione, ad aggirare gli ostacoli, anzi, a fine giornata avrete la percezione sicura di averli voltati a vostro completo vantaggio quelli stessi ostacoli. Luna imbronciata in dodicesima casa e questo sarebbe nulla se non fosse che Marte nella sesta, quella che appunto parla di lavoro e salute, gli argomenti clou della vostra vita, dal segno opposto la minaccia facendo fuoco e fiamme. Generosi nei vostri confronti soltanto Giove e Urano ormai amiconi intrigono da quasi un anno, protettivi nei confronti del viaggio di rientro dal lavoro e di tutto quanto abbia a che fare con i vostri ideali politico-sociali, culturali, artistici, cosa che nella giornata celebrativa della foresta e della poesia capita propria fagiolo. Peccato non si possa dire lo stesso della pace interiore, soggetta a vari tormentoni. La trama onirica che vi è rimasta impressa vi lascia addosso una strana inquietudine, ma se non avete a portata di mano studi psicologici per indagarla, non vi resta altro da fare che darsi alla meditazione, vi calmerà. Amore ed Eros L'amore c'è, magari un po' confuso, ma perfino al di sotto dell'acqua, della roccia o delle liane delle foreste se ne intravede la luce rosata. Nessun timore, al momento giusto si paleserà, riempiendovi il cuore di dolcezza. Rassicurante la presenza di amici ai quattro angoli del mondo, saranno loro a chiamarvi discutendo dei rispettivi problemi, ma anche a invitarvi per le prossime vacanze. Questa sì che è un'opportunità da non perdere e poiché i vostri conti sono rassicuranti converrebbe prenotare subito il viaggio, biglietto andata e ritorno, e non pensarci più. Lavoro e denaro Giornata urticante sul lavoro, con tante incombenze da sbrigare che vi ci vorrebbe una settimana, invece è già. E poi si parla di giornata mondiale della pace interiore, ma dove se avete un diavolo per capello e non sapete a che santo votarvi come sfangarvela? Tensioni tra colleghi, malumori col socio, tira e molla con l'interlocutore in affari. Per fortuna il tesoretto tiene, indizio che in fatto di investimenti avete proprio le mani in pasta. Benessere. Chiamatelo pure malessere, oggi è la parola giusta, non solo in senso animico ma anche fisico tra stati infiammatori, tensione nervosa e la sensazione di rincorrere qualcosa che fila più veloce di voi. Si tratta della vostra vita che vi precede correndo velocemente mentre voi, troppo stanchi per raggiungerla, vi accontentati di distanziarla di qualche metro. Nessun aiuto dall'esterno, che vi piaccia o no oggi vi tocca proprio cavarvela da soli. Per lei, immagine castigata, troppo e senza ragione, solo una semplice paura dell'impatto con le vostre emozioni. Così non rischiate di innamorarvi e di fare innamorare. Per lui, sognavate la vita spericolata come quella descritta in tanti romanzi giovanili e vi ritrovate mani e piedi al lavoro e alla routine. Forse avete sbagliato direzione, ma siete ancora in tempo per rimediare. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.